buongiorno a tutti oggi vi presentiamo la nuova scopa combi della dell'arison di hot point di arison eccola qua è un magnifico elettrodomestico che vi farà risparmiare tanto tempo e tanta fatica a casa nelle pulizie domestiche innanzitutto è una scopa che aspira e quindi è un aspiratore da tutti gli effetti ma poi grazie all'utilizzo della tecnologia del vapore è anche una lavapavimenti andiamo a vedere come funziona ovviamente noi abbiamo fatto un demo su un pavimento insomma mediamente sporco adesso andiamo a vedere le varie fasi di pulizia che questa scopa questa è la e la fa è la funzione di aspirazione e adesso andiamo a vedere la funzione di pulizia si accende il vapore si dà tempo alla macchina di arrivare a temperatura e una volta che parte il vapore ma si può mandare sul pavimento come vedete bastano pochi passaggi e con tanta semplicità si può evitare la fatica dello straccio e la noia del tempo dedicata alle varie pulizie io aggiungerei anche che la un'altra cosa importante è il fatto è che non dovremmo più piegarci con la schiena quindi possiamo pulire tranquillamente stando in una posizione comoda e diretta adesso andiamo a vedere il risultato ecco qui vi diciamo che lo straccio inizialmente era bianco e quindi tutto quello che vedete attaccato sullo straccio era quello che stava sul pavimento e questo è il risultato finale grazie a tutti e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti